Saluti ai nostri telespettatori, nuova puntata di tema, ospite degli studi di Teleacras, il sindaco di Agrigento Marco Zambuto. Buonasera. L'approvazione del progetto per il recupero e la ricostruzione della rete idrica di Agrigento in Commissione Regionale Lavori Pubblici. Poi il finanziamento da parte della Giunta Regionale presieduta da Raffaele Lombardo per 25 milioni di euro. La visita di Lombardo ad Agrigento che sancisce e suggella un finanziamento cospicuo, strategico, insolito per Agrigento, dove 25 milioni di euro, che sarebbero 50 miliardi delle vecchie lire, raramente si sono materialmente contati. Un traguardo a prescindere poi dalle finalità sostanzioso. Sindaco Zambuto. È un risultato straordinario, un risultato storico sul piano politico per la nostra città, ma proprio per la finalità che va a raggiungere. Io voglio ricordare a tutti che è stato, sin dal mio insediamento, una di quelle emergenze che ho affrontato nel momento in cui sono stato eletto dalla mia città. Io sono stato eletto e ho trovato una città distrutta. Una città con l'emergenza finanziaria prima di ogni altra cosa, con l'emergenza idrica, con l'acqua che arrivava ogni 15, ogni 17 giorni. E di lì è iniziata, sul fronte della battaglia per l'acqua, per avere l'acqua ogni giorno nella nostra città, la mia campagna. Che è stata, prima di tutto, di andare a fare la battaglia affinché l'approvvigionamento idrico alla nostra città arrivasse. Perché c'era il problema complessivo che non era mai stato affrontato realmente. Avevamo un problema di approvvigionamento e voglio ricordare a tutti la battaglia che fu fatta, che abbiamo fatto, coinvolgendo le forze dell'ordine, affinché vi fosse un controllo delle condotte idriche che portavano l'acqua ad Agrigento. Quello fu un risultato importante e così l'acqua cominciò ad arrivare ad Agrigento. Poi vi era, sempre in quel periodo, la battaglia che abbiamo fatto affinché sulla vicenda del dissalatore i costi del dissalatore non venissero a essere pagati dal bilancio comunale che con quella somma, con quella cifra, non potevamo assolutamente chiudere il bilancio comunale. Perché parliamo di cifre di 3 milioni all'anno di euro che non consentivano. Quindi parliamo di 6 miliardi delle vecchie lire all'anno che non consentivano di poter chiudere il bilancio. E lì la mia battaglia, che fu quella di chiedere all'allora presidente della regione, Cuffaro, di addossare alla regione siciliana il costo che invece era stato attribuito al comune di Agrigento. E Cuffaro, come primo atto nei confronti della città, fece proprio questo, quello di accollare alla regione siciliana costi che diversamente sarebbero stati del comune di Agrigento. E allora, una volta riusciti ad affrontare il problema dell'approvvigionamento, il problema di fare permanere il dissalatore come fonte per la città di Agrigento, una battaglia questa, io non è che sono uno che nega le cose o nega le battaglie politiche fatte da altri, una battaglia che sicuramente si ascrive a Cuffaro, quella sul dissalatore, ad Alfano, a Cimino. Ma che quando mi sono trovato proprio a insediarmi, il costo era caricato sul comune di Agrigento, quindi era una cosa assolutamente allucinante. E lì, devo dire, ripeto, il presidente della regione, Cuffaro, non se lo fece dire più di una volta, quando a Palermo, a seguito di un incontro, proprio portò i costi del funzionamento del dissalatore a carico della regione siciliana. Quindi aveva un problema di approvvigionamento, un problema di fonti, quindi di fonti di approvvigionamento, la dissalata di gela da un lato, il dissalatore dall'altro, finalmente il favara di Burgio che si completa, io voglio ricordare lì le battaglie fatte insieme con il prefetto Postiglione, bisogna riconoscerlo, che riuscì a fare sbloccare una vicenda importante sulle fonti di approvvigionamento, si sbloccò anche il favara di Burgio e così l'acqua riuscì ad arrivare alla nostra città. Allora ci fu il problema della distribuzione interna. Lì, con il nostro ufficio tecnico, prima che poi il servizio passasse al lato idrico e insieme anche con alcuni tecnici esterni, riuscimmo a dare l'acqua, a superare quella mortificazione, perché era una vera e propria mortificazione ogni 15, ogni 17 giorni, riuscimmo a superare quella mortificazione e arrivare all'acqua che veniva data alla nostra città, insomma, in termini ragionevoli, ogni 2, ogni 3, ogni 4 giorni. Ma quando siamo riusciti a superare la battaglia, prima di tutto, dicevo, sulle fonti di approvvigionamento e ci siamo resi conto che l'acqua eravamo riusciti a portarla alla città, abbiamo preso atto che ci trovavamo di fronte a una rete idrica che era completamente fatiscente. Eravamo, come si suol dire, mi piace usare questa espressione, che eravamo con uno scolapasta rispetto al quale più acqua metti e più se ne perde. Per cui, preso atto proprio visivamente di questa condizione, che tra parentesi l'acqua che si perde, anche questa tesi sostenuta da Postiglione, andava anche a mettere in difficoltà il sottosuolo agrigentino, che lì abbiamo cominciato a fare una battaglia perché venisse realizzata la nuova rete idrica. E io mi sono trovato, così come mi sono trovato su altre vicende e su altri versanti, a iniziare quindi dall'anno zero, perché eravamo senza un progetto sulla nuova rete idrica, e allora lì ci siamo messi con tanta pazienza a realizzare il progetto. Nel frattempo il servizio per legge è stato dato a Girgentiacque, e quindi si è fatto il progetto. In questo senso, sul progetto, io devo ringraziare prima l'ingegnere Lamedola, il relatore del progetto, innanzi alla Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, poi l'ingegnere Armenio, il nuovo capo del Genio Civile, insieme con i tecnici del lato, l'ingegnere Barone, l'ingegnere Milano, il presidente Dorsi come ato idrico nel dare immediatamente sostegno a questa azione, e poi il progetto, una volta presentato, che l'ho portato a Roma, perché questo era stato l'impegno che io avevo assunto, e che era stato assunto con me dal presidente Berlusconi e dal ministro Affano. Cioè quello di riuscire, tenuto conto che ci trovavamo con il governo del fare, con il governo che si voleva misurare sulle cose importanti della nostra terra, dicevo, questo era stato l'impegno per dare alla nostra città segnali importanti di una città che era stata devastata. Perché quando parliamo di una città che non ha la rete idrica, ci troviamo a parlare di una città che non ha i servizi civili, quindi non possiamo poi parlare di tutt'altro, non possiamo parlare di turismo, non possiamo parlare di economia, se manca la rete idrica. E purtroppo questa terra si trovava ancora nel 2007 a doversi misurare con questi problemi. Questo fu l'impegno che io ho presi a Roma con Berlusconi e con Alfano, e di lì allora cominciarono i miei viaggi a Roma continui nel 2008 e nel 2009. Quanti attacchi ho dovuto subire io per quella scelta che fece sul piano politico? Quanti attacchi, quante calunnie ho dovuto subire per quella scelta? Quando la mia scelta fu fatta solo e soltanto per riuscire a dare alla mia città, in un momento in cui ho trovato una città del tutto disastrata, la mia scelta fu fatta per riuscire a dare sostegno, finanziamenti, e riuscire a farla risollevare. Le è costata mezza giunta quella scelta? Quella scelta mi costò più di mezza giunta, è chiaro, perché quella scelta non fu compresa, perché si alimentò tanta cattiveria, tanto inquinamento, che si creò quasi una situazione in cui io avessi svenduto la città chissà per cosa, chissà per quali fini, chissà per quali fini personali o particolari. Poi siccome il tempo è sempre galantuomo e siccome parlano poi i fatti, si dimostra come è soprattutto la libertà dell'azione politica che ho sempre manifestato e che ho manifestato proprio a garanzia del fatto che io, il mio andare a bussare a destra e a sinistra, a Roma e a Palermo, è stato da sempre solamente finalizzato per dare segnale alla mia città, dicevo, poi tutto questo come qualunque bugia o qualunque calunnia si è sciolto come neve al sole. Peraltro si è verificata quasi una condizione di danno emergente e guadagno cessante, nel senso che lei in una recente lettera scritta alla città nel merito della rete idrica ha sottolineato che l'adempimento della promessa, se vi fosse stato nel 2008, la promessa della rete idrica, del finanziamento, adesso, due anni dopo, i lavori sarebbero quasi in addirittura d'arrivo, quindi si è perso gravemente del tempo. Ma il punto è proprio questo, io ricordo di essere salito a Roma e poi di essere andato per essere ricevuto subito dopo le riunioni dei consigli dei ministri a Roma, a Napoli, all'Aquila, andando a inseguire a Matteoli, al Ministero delle Infrastrutture, portando il progetto, e questo l'ho fatto per due anni, tutto il 2008 e tutto il 2009, quando nel 2009, dopo avere finalmente portato tutte le cose che mi venivano chieste, mi arrivò una lettera da parte del Ministero delle Infrastrutture che mi si diceva, il 14 ottobre del 2009, chiaramente è una data che non posso dimenticare, dove una lettera stampo burocratico mi disse che non vi erano le condizioni affinché quel progetto rientrasse nella legge obiettivo per cui dovevo seguire il procedimento attraverso l'ente territorialmente competente che era la regione siciliana, per cui qualunque procedura di accelerazione, qualunque procedura d'urgenza, non si poteva assolutamente realizzare. E credetemi, per me quella fu una grande mortificazione, ma perché in quella maniera mi sentii preso in giro, perché ero stato seriamente preso in giro ed era stata seriamente presa in giro la mia città. E siccome, ripeto, non avevo nulla chiesto, se non interventi sacrosanti per la mia città, compresi come quello che era detto o si presentava come il governo del fare, alla fine si realizzava e si materializzava come invece il governo delle grandi delusioni. E così, alla fine del 2009, andai a riprendermi le carte da Roma per andarle a portare a Palermo. E fu chiaro che il governo regionale, io presentai le carte nel febbraio del 2010, e onestamente devo dire che nel febbraio del 2010 abbiamo presentato tutta la documentazione con tutto il progetto, grazie al Presidente della Regione, grazie agli Assessori Regionali Agrigentini del Tempo, Gentile, Cimino o Di Mauro, il progetto segue un percorso preferenziale all'interno della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, fino al 16 dicembre del 2010, quando viene ufficialmente approvato dalla Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, e poi il 30 dicembre del 2010, il Presidente della Regione con la Giunta Regionale finanzia il progetto della rete idrica di Agrigento. Parliamo di 50 miliardi delle vecchie lire che questa città, non so da quanto tempo non ricevesse stanziamenti di questo genere. Grazie a tutti.